Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video di news su Call of Duty Infinite Warfare. Dopo l'arrivo del DLC1 Sabotage arrivato il 31 di gennaio, nuove notizie arrivano dal multiplayer di Call of Duty Infinite Warfare. Infatti proprio il profilo ufficiale Twitter di Call of Duty ha annunciato l'arrivo della modalità demolizione per questo weekend e non solo. Infatti potremo provare demolizione a partire da oggi 3 febbraio alle ore 19 fino a venerdì prossimo quindi 10 febbraio alle ore 19. Quindi rispettate in tutto e per tutto la notizia che aveva riportato diverse settimane fa l'Infinity World cioè ogni volta che sarà introdotta una nuova modalità sarà possibile provarla per un'intera settimana. Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate della modalità demolizione e noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video sempre qui sempre sul mio canale.